Buonasera a tutti, io mi presento, sono Luca Cianfanelli, ho 25 anni e stasera ho il piacere di accompagnarvi in questo che è il nostro webinar di presentazione del nostro business. Invito tutti i partecipanti, soprattutto per tutti coloro che sono qui per la prima volta, quindi che ci stanno conoscendo appunto per la prima volta, di prendere degli appunti oppure di segnarsi tutte quelle che sono le eventuali domande da poter poi fare alle persone che vi hanno invitati qui questa sera. Io faccio questa attività, quindi faccio Momento Espresso da un po' di tempo, ma ovviamente anche per me c'è stato un inizio, quindi una prima volta in cui la conobbi, diciamo, ma più là nel webinar avremo modo di conoscerci appunto meglio. Adesso stiamo per cominciare e vi lascio con un brevissimo video che appunto introduce quella che è la nostra attività. Quindi andiamo a vedere insieme questo breve video di un paio di minuti e poi ritorneremo insieme. Il caffè è un'abitudine quotidiana per milioni di persone e rappresenta un giro di affari mondiale secondo solo al petrolio. Ogni anno si producono 6 miliardi e mezzo di chilogrammi di caffè e si consumano 900 miliardi di tazzine. L'Italia è la patria dell'espresso, importa quasi 6 milioni di sacchi l'anno ed esporta da sola un terzo del caffè torrefatto mondiale. In un anno una famiglia italiana consuma 40 chili di caffè, in media 600 caffè a persona. In Italia si consumano 35 miliardi di tazzine di caffè l'anno, il 70% si beve in famiglia, il 30% fuori casa. In un mercato legato al tradizionale uso della moca si va affermando una nuova tendenza, il caffè porzionato. Un segmento del mercato che genera un fatturato anno da 226 milioni di euro, con un trend di crescita di oltre il 20% anno. Perché questo successo? La capsula contiene la dose di caffè ideale per un espresso perfetto. La sua particolare confezione mantiene intatti gli aromi fino all'uso. Con pochi semplici gesti, chiunque può ottenere un ottimo espresso, al pari del miglior bar. Ma non tutti i caffè sono uguali. Dovremmo scegliere la moda o la sostanza, la qualità o l'appeal di un testimonial, un prodotto estero o il made in Italy. È il momento di scegliere solo il meglio. È il momento di unire la sapienza tradizionale ad un cuore moderno. È il momento di momento espresso. E da qui, da oggi, da ora, è il momento di partire. Ok, quindi abbiamo visto il video introduttivo e vi do di benvenuto a questo punto al business webinar. Quindi andiamo a scoprire insieme l'opportunità e andiamo a contestualizzare adesso quello che è il periodo attuale che stiamo vivendo. Perché? Perché ovviamente senza che ci nascondiamo dietro un dito siamo in un periodo di crisi. Non lo dico soltanto io, lo dicono sicuramente testate, persone più accreditate di me e alcune titolano addirittura mai una crisi così nera. Disoccupati over 50 più dei giovani. Quindi sicuramente lì fuori ci sono tantissime persone che non arrivano alla fine del mese, tantissime persone che perdono il proprio posto di lavoro, tanti giovani che non hanno opportunità e magari sono costretti ad andare all'estero, costretti ad andare all'estero per cercare una situazione lavorativa migliore. Sicuramente qualcuno di voi conosce qualcuno che ha perso il lavoro negli ultimi tre o cinque anni o qualche giovane che è andato all'estero. E qual è la differenza però sostanziale tra un giovane e un magari un meno giovane, quindi un over 50 che perde il posto di lavoro. Mentre un ragazzo, magari 20, 30 anni perde il posto di lavoro, ovviamente questo ragazzo ha la possibilità di rimettersi in gioco, cosa che ha anche un over 50. Ma qual è la difficoltà in più che un over 50 ha e che dobbiamo tenere in considerazione? Il fatto che se perde il posto di lavoro un over 50, con ogni probabilità c'è anche un nucleo familiare che ne risente quindi magari dei figli, una moglie e quindi che cosa succede? Che quei figli che hanno delle esigenze, delle necessità, tra cui la scuola, le vacanze e quant'altro, ne risentono in maniera importante. Quindi quando si perde un posto di lavoro bisogna sempre comunque sia considerare che c'è anche un nucleo familiare quando perde appunto un posto di lavoro un over 50. Quindi questa è un po' la situazione di oggi e quindi non è sicuramente una situazione idilliaca, una situazione diciamo molto favorevole e soprattutto quale futuro ci aspetta? Quindi quale futuro c'è per noi? Ma soprattutto quali soluzioni abbiamo noi in nostro potere per poter cambiare questa che è appunto una situazione ormai assodata. Possiamo decidere di guadagnare di più, possiamo subire la situazione, possiamo decidere di accontentarci o più semplicemente possiamo decidere di lamentarci con i propri amici. Diciamo che soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, l'ultima va in voga, va molto in voga perché lamentarsi è una delle soluzioni più facili. Io mi lamento di un qualcosa e quindi sicuramente qualcuno di voi conosce almeno una persona che non fa altro che a domanda come stai inizia a rispondere con delle lamentele che poi spaziano su diversi ambiti. Quindi abbiamo la possibilità di lamentarci con gli amici oppure decidiamo di accontentarci. Che cosa significa accontentarsi però? Accontentarsi significa a mio modo di vedere tagliare. Che cosa significa tagliare? Quante persone avete mai sentito magari negli ultimi periodi, negli ultimi anni dire ok quest'anno non posso permettermi la vacanza, non ci vado? Sicuramente tante. Perché? Perché ovviamente questa situazione ci porta ad accontentarci. Quindi invece che guadagnare di più o magari aumentare le nostre entrate, essere in cerca di opportunità, tagliamo, tagliamo, tagliamo. E che cosa succede se continuiamo a tagliare però? Che ovviamente un metro è costituito da tanti centimetri e quindi se io taglio un centimetro oggi, un centimetro domani, quindi magari rinuncio alla vacanza quest'anno, l'anno prossimo i miei figli li mando in una scuola magari più economica. Che cosa succede? Che arriverà ad un certo punto in cui le cose da tagliare saranno sempre meno, anzi finiranno e magari mi ritroverò a non vivere neanche più una vita dignitosa. Subire la situazione. Quindi restare fermi e decidere di subire la situazione. Ma se siamo qui connessi questa sera vuol dire che con ogni probabilità non è questa la soluzione che abbiamo in mente noi e quindi noi abbiamo scelto di guadagnare di più. Ma sicuramente qualcuno di voi che è connesso per la prima volta si starà chiedendo ok Luca il discorso mi piace, il discorso è logico perché viviamo in un momento di crisi, ma come faccio a guadagnare di più? Come possiamo guadagnare di più? E andiamo a vedere appunto che modi ci sono per guadagnare soldi, quindi per produrre reddito. Esistono al mondo quattro modi per produrre reddito. Il primo è il dipendente. Chi è il dipendente? Il dipendente è colui il quale lavora presso un ufficio o un'azienda pubblica o privata che sia, quindi presso una realtà e lavora le sue 8, 9, 10. Purtroppo conosco persone che lavorano anche 12 ore al giorno e alla fine del mese vengono retribuite per quelle ore che hanno lavorato, quindi per quelle ore che hanno venduto in realtà al proprio datore di lavoro. Poi c'è il lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo è quella persona che magari si è messa in proprio, quindi sicuramente conoscerete qualcuno che ha detto la famosa frase, la fatidica frase mi metto in proprio. E qui la situazione cambia, cambia perché nessuno, un lavoratore autonomo non ha un capo, è lui stesso il capo della sua attività, ma in realtà se andiamo a vedere, ad analizzare bene la situazione, un capo anche egli ce l'ha. Perché? Perché è lui che ogni mattina è il primo ad alzare la serranda della propria attività e l'ultimo ad uscire appunto dalla sua attività, quindi ad abbassare quella serranda. E soprattutto se un lavoratore autonomo, quindi magari prendiamo come per esempio un meccanico piuttosto che un fornaio, decidono di non regarsi sul proprio posto di lavoro, quindi in officina o al forno, guadagnano, incasseranno dei soldi? La risposta è no. Quindi che cosa succede? Che in realtà non hanno un capo, ma il loro capo è il loro stesso lavoro. Perché? Perché loro sono necessari, la loro presenza è necessaria per mandare avanti la propria attività. Poi c'è il titolare d'azienda. Il titolare d'azienda è anche egli un imprenditore come il lavoratore autonomo, ma a differenza del lavoratore autonomo ha creato una realtà, quindi un'azienda intanto magari anche un po' più grande rispetto a quella del lavoratore autonomo, con qualche dipendente in più, con un fatturato un po' più grande, un po' più importante, ma soprattutto il titolare d'azienda non è obbligato a regarsi sul suo posto di lavoro, quindi a regarsi nella sua azienda, ovvero la sua azienda funziona e produce con o senza la sua presenza. Questo gli dà la possibilità quindi di potersi occupare magari anche di faccende private. L'investitore. L'investitore è colui il quale ha a disposizione ingenti somme di denaro, quindi ingenti capitali e decide ovviamente di investirli, quindi di metterli a frutto. Un investitore può decidere di investire in borsa piuttosto che in investimenti immobiliari e cosa succede anche qui? Succede che un investitore quando fa un investimento gode nel tempo dei frutti di quell'investimento e quindi anche egli è svincolato dalla propria attività. Il suo guadagno non dipende dalla sua presenza appunto sul suo posto di lavoro. Quindi la differenza sostanziale tra chi si trova nei quadranti di sinistra e chi si trova nei quadranti di destra è che nei quadranti di sinistra, dove si trova il 90% delle persone del mondo, si lavora per i soldi, quindi si scambia il proprio tempo per denaro. Nella parte destra invece sono i soldi che lavorano per noi, quindi sono i soldi che al posto nostro producono altri soldi. E come si fa a passare dalla parte sinistra alla parte destra dei quadranti? Ovvero per quale motivo il 90% delle persone è o dipendente o autonoma e non è titolare d'azienda o investitore? Perché tra la parte sinistra e la parte destra dei quadranti esiste un vero e proprio muro, ovvero non è per tutti. Non è per tutti perché? Perché bisogna avere tre elementi fondamentali, tutti nella stessa persona e tutti nello stesso momento. Bisogna avere capacità o comunque sia propensione al rischio, bisogna avere del capitale e bisogna anche avere esperienza. Per quale motivo? Posso aprire un'azienda o comunque sia fare degli investimenti senza un capitale? Assolutamente no. Ma ammesso che abbia un capitale, devo essere disposto a rischiare quel capitale? Assolutamente sì. Perché? Perché non tutte le aziende che nascono arrivano ad avere successo e non tutti gli investimenti che facciamo possono magari andare a buon fine. Da cosa dipende? Dipende molto dall'esperienza. Perché? Perché più esperienza ho nel campo in cui mi sto andando ad inserire, quindi sto andando ad investire, più il rischio di perdere il mio capitale si abbassa. E quindi vi dico la sincera verità, quando conobbi questa attività e vedi questa slide, questo schema per la prima volta, ero assolutamente nei quadranti di sinistra perché lavoravo come dipendente in un hotel di notte, facevo il facchino, e non avevo né i capitali, nell'esperienza e neanche avevo tanta voglia di rischiare. Quindi mi sentivo letteralmente, quando vedi questa slide, mi sentivo letteralmente inglobato in questo 90% delle persone. E vi dico la sincera verità, un po' mi scoraggiai perché dissi, ok, ma allora se c'è questo muro, come faccio a passare dall'altra parte? Non è per me, quindi sono destinato a rimanere un dipendente o tutt'al più, un lavoratore autonomo per tutta la vita, quindi dovrò sempre e comunque lavorare per i soldi. In realtà, andando avanti con la presentazione quella sera, vedi che, e conobbi appunto, che c'era una soluzione e questa soluzione che questa sera stiamo condividendo appunto con voi si chiama proprio momento espresso. Ma andiamo a vedere in che mercati abbiamo questa possibilità, quindi in che mercati possiamo inserirci grazie a momento espresso. Il primo è il mercato del caffè. Qui abbiamo elencato alcuni dati che prima di farvi vedere vi voglio fare appunto una domanda, un ragionamento. Quanti di voi connessi bevono caffè? E soprattutto, quanti di voi connessi conoscono qualcuno che beve caffè? Il mercato del caffè è un mercato storico, è un mercato che non conosce crisi e pensate che è il secondo mercato al mondo, per volume d'affari solamente dopo quello del petrolio. È la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua, io in tutta onestà credevo fosse la Coca-Cola, invece è il caffè. E in Italia si bevono oltre 900 caffè a persona in un anno, circa 3 caffè al giorno. L'altro mercato in cui momento espresso si è inserita è il mercato del benessere. A differenza del mercato del caffè, il mercato del benessere è un mercato in crescita, quindi il mercato del caffè è un mercato storico, stabile, che non conosce crisi, il mercato del benessere è un mercato che sta vivendo proprio in questi anni, in questi mesi, la sua espansione, il suo appunto consolidamento. Perché? Perché lo dicono i dati. Il mercato Italia con oltre 2 miliardi, virgola 7 di euro è soprattutto un record per il settore bio. La domanda che vi faccio è, quanti di voi hanno notato che negli ultimi 3-5 anni sono aumentati in maniera esponenziale il numero dei negozi o dei supermercati che trattano prodotti di origine biologica, è sicuramente aumentato. Perché? Perché fino a 3-5 anni fa neanche magari sicuramente si parlava di biologico, perché il biologico esiste da molto tempo, ma è proprio in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni che c'è un vero e proprio boom. Per quale motivo? Perché c'è una vera e propria presa di coscienza. La presa di coscienza verso il fatto che quello che si mangia oggi non è della stessa qualità di quello che si mangiava 20 o 30 anni fa. E quindi c'è bisogno anche di fare integrazione o comunque sia di essere sempre più attenti al benessere psicofisico del nostro corpo. E Momento Espresso chi è? Momento Espresso è un'azienda totalmente made in Italy che dal 2010 rappresenta nel mercato del caffè dei valori importantissimi. Etica. Perché? Perché in Momento Espresso si trova rispetto per le persone al primo posto e per i processi produttivi, ovvero scoprirete che non abbiamo scelto il caffè più pregiato al mondo perché realizzato sfruttando gli animali e quindi non in linea col nostro valore di etica. Qualità. Momento Espresso mette qualità in tutti quelli che sono i suoi prodotti e servizi che eroga e che dà ai propri clienti. Mettiamo passione ogni giorno perché? Perché nonostante siamo un'azienda che rappresenta qualità vogliamo sempre di più migliorarci. E ambizione perché entrare in un mercato come quello del caffè volendo essere protagonisti significa magari doverlo fare lottando e sgomitando con grandi multinazionali che sono già fermate quindi magari Lavazza e Nespresso. Quindi è un qualcosa di molto ambizioso. Andiamo a vedere alcuni dei nostri clienti, quindi alcuni dei clienti che hanno già deciso di prendere questi valori e portarseli a casa. Quindi abbiamo elencati alcuni. Sicuramente molti di voi li conosceranno, sono dei clienti straordinari. Ne vediamo alcuni citandoli. Finto, una nota catena di ristoranti di sushi. Il Blue Note, la casa del jazz appunto di Milano, per passare alla direzione di Sky Sport, gli uffici direzionali della team, Radio M2O. Quindi sicuramente dei clienti molto molto importanti. Ce ne sono però due che meritano una nota differente, una nota particolare. Perché? Perché sono questi due signori. Ci hanno già scelto anche Gucci e Fendi. Pensate che in tutti gli uffici amministrativi di Fendi e nelle boutique, tutte le boutique d'Italia e d'Europa di Gucci, si beve e si serve ai clienti il caffè a momento espresso. Questo è un biglietto da visita sicuramente molto importante. Perché? Perché questi due signori avrebbero potuto scegliere qualsiasi marca di caffè. E hanno scelto ovviamente noi. Hanno scelto noi perché? Perché incarniamo tutta quella serie di valori che abbiamo appena visto. E un'altra nota importante è il fatto che questi due signori avrebbero potuto decidere magari di prendere il caffè da qualsiasi parte, da qualsiasi azienda, anche non pagandolo. Perché? Perché semplicemente dicendo che tu servi il caffè a Gucci è un motivo d'onore e di pubblicità. Questi due signori invece sono clienti da più di tre anni. E questo per noi è ovviamente un biglietto da visita di tutto rispetto. I nostri prodotti. Quindi andiamo a vedere i prodotti con cui Momento Espresso ha deciso di diffondere questi valori. Le macchine. Quindi macchine per espresso, macchine totalmente made in Italy e garantite a vita. Il caffè. Un caffè, ovviamente caffè in capsule, miscele tradizionali, un pura arabica, un intenso e un decaffeinato. Sono pregiatissime miscele di qualità top bar. Questo vuol dire che non le troverete in nessun tipo di discount, triscount, supermercato, supermercato, quello che sia. L'azienda si è affidata a chi ha fatto refazione per realizzare appunto queste miscele da più di 100 anni e anche qui è assolutamente tutto made in Italy. Poi c'è la linea benessere. La linea benessere appunto con cui Momento Espresso è entrata nel mercato appunto del benessere è la linea Elisir. La linea Elisir è una linea di prodotti che ha alla base appunto un elemento veramente straordinario, ovvero il Ganoderma Lucidum. Il Ganoderma Lucidum è uno tra gli integratori alimentari più potenti al mondo e pensate che ha tantissime proprietà benefiche per il corpo. Ve ne cito solamente una che può farvi capire realmente il potenziale di questo di questo ingrediente, ovvero il fatto che è adattogeno, ovvero la persona che lo assume ha dei benefici e proprio il Ganoderma si adatta a quelli che sono gli squilibri della persona appunto che lo assume. E l'azienda cosa ha fatto? Ha preso questo integratore e l'ha inserito all'interno di prodotti di larghissimo consumo. Perché? Perché semplicemente bevendo un tè verde biologico, un caffè espresso biologico e un energy drink noi abbiamo la possibilità senza cambiare le nostre abitudini di fare integrazione. Poi c'è la linea Special Crew. La linea Special Crew è formata da quattro pregiatissimi caffè puro arabica, monorigine, tra i più pregiati e ricercati al mondo e ovviamente anche qui parliamo di mercato del caffè ma abbiamo deciso di mettere in un'altra slide a parte perché? Perché questo qui parliamo di alta gamma, qui parliamo di caffè veramente tra i più ricercati appunto al mondo e parliamo del Brasile, del Colombia, del Kenya e del Jamaica. Prendendo riferimento l'ultimo, il caffè Jamaica Blue Mountains è il secondo caffè più pregiato al mondo, è considerato il caviale del caffè e pensate che per farvi capire appunto il fatto di come questa linea sia pregiata è un caffè che è intanto molto raro. È molto raro perché viene prodotto nelle montagne blu della Giamaica e la sua produzione oltre a essere molto ridotta perché geograficamente la Giamaica non è molto estesa, l'80% di questa produzione viene destinata al mercato del Giappone, quindi al mercato giapponese. Il restante 20% è suddiviso nel resto del mondo, quindi già solamente il fatto di averlo a disposizione è sicuramente una rarità, è sicuramente un'eccezione. Se poi pensiamo che è quotato in borsa, ha un mercato a sé ed è scambiato per circa 150 dollari al chilo, possiamo immaginare che tipo di possibilità, che tipo di esperienza possiamo provare e vivere andandolo a degustare. Bene, e come possiamo entrare quindi in questi mercati da protagonista? Possiamo decidere magari di aprirci un bar, possiamo decidere di aprirci una torrefazione, ci apriamo direttamente una torrefazione, oppure investiamo nel mercato azionario. Che ne dite? Come vi sembrano queste tre soluzioni? Sicuramente non sono quelle che abbiamo preso in considerazione, ma perché analizziamole? Per aprire un bar, una torrefazione e investire nel mercato azionario, cosa serve? Serve sicuramente del capitale, serve una propensione a rischiare questo capitale e serve dell'esperienza. sono tre fattori che abbiamo già sentito, non credete? Abbiamo già visto. Magari ecco ci stiamo anche scherzando sopra, ma in realtà se andiamo a vedere queste sono le opportunità con cui si può entrare in questi mercati e se andiamo a vedere queste sono opportunità che lì fuori esistono in maniera concreta, quindi il discorso veramente di avere a disposizione poche opportunità lì fuori che siano svincolate dall'avere dei capitali, dall'avere dell'esperienza di rischiare questo capitale sono veramente ridotte al lumicino. E quindi anche qui, quando vedi questa slide, ritornai un po' in quello che era il baratro del mio lavoro da dipendente chiedendomi, ok, e adesso come posso fare? In realtà abbiamo una soluzione. La soluzione è quello di diventare un coffee specialist momento espresso. Il coffee specialist momento espresso si forma e cresce per portare il gusto italiano dell'espresso in tutto il mondo. Ha a disposizione un'intera azienda, un'azienda che quindi pensa ai prodotti, mette a disposizione i prodotti, il marketing, la logistica e il controllo di qualità. Quindi io posso fare i clienti in tutta Italia e non dover essere io a consegnare personalmente il prodotto. Quindi magari io sono di Roma, faccio un cliente a Milano, l'azienda spedisce direttamente a casa del cliente e io ho ovviamente il mio guadagno. E inoltre a disposizione, abbiamo parlato di una persona che si forma e cresce, proprio per crescere il coffee specialist ha a disposizione la coffee specialist academy. La coffee specialist academy è un'accademia formativa che ci prepara al meglio sul prodotto, ci aiuta a crescere personalmente e ci aiuta a crescere anche professionalmente. Quindi una crescita a 360 gradi. Bene, andiamo adesso a vedere quindi come si guadagna. Andiamo a vedere come poter entrare in questi mercati da protagonisti. Cosa si deve fare per guadagnare? Si può acquisire dei clienti, quindi magari organizzando, non so, dei coffee party, quindi acquisendo dei clienti e creando una rete di coffee specialist. Andiamo ad analizzarli insieme. Facciamo un esempio, quindi un esempio di guadagno diretto, ovvero sulla mia attività diretta, quindi acquisendo e segnalando dei clienti all'azienda. Segnalando circa tre clienti al mese, diciamo quindi con tre clienti al mese per un'attività di 12 mesi, quindi l'attività di un anno, avremo alla fine appunto dell'anno un guadagno di circa 470 euro al mese. Ora, sono 470 euro al mese, sicuramente non è una cifra che ci cambia la vita, ma pensiamoci a quanti lì fuori potrebbero oggi far comodo tra averli e non averli quasi 500 euro al mese. Parliamo di quasi 6.000 euro l'anno e se ragioniamo possono sicuramente dare un po' di respiro a tantissime persone e soprattutto a tantissime famiglie. E quindi questo è il primo modo in cui possiamo guadagnare, quindi impiegando il nostro tempo e segnalando magari tre clienti al mese per 12 mesi. Adesso andiamo a vedere un esempio di come possiamo guadagnare indirettamente, quindi creando una rete di coffee specialist. E quindi che cosa succede? Che magari invece di utilizzare il nostro tempo esclusivamente alla ricerca di clienti, possiamo decidere di fare una cosa molto intelligente, ovvero di condividere il prodotto e di coinvolgere altre persone a diventare dei coffee specialist a momento espresso, andando a guadagnare così su migliaia di caffè bevuti ogni giorno. Per quale motivo? Perché immaginiamo che questi siamo noi, abbiamo il nostro tempo a disposizione per fare la nostra attività, quindi iniziamo a segnalare dei clienti e in più aiutiamo tre persone a generare i loro clienti. Questa simulazione, questo calcolo è fatto sulla base di un consumo medio mensile di 10 clienti, quindi aiutiamo tre persone a fare i loro 10 clienti ciascuno e avremo un guadagno di 326 euro, che se andiamo a vedere bene sommandolo ai nostri 10 clienti si avvicina di molto a quello che è il guadagno facendo quei tre clienti al mese di cui parlavamo prima, solo che qui lo facciamo in maniera più intelligente. Perché? Perché non siamo da soli a generare questo numero di clienti, ma siamo noi più tre persone, quindi siamo in quattro. E cosa succederebbe se queste tre persone facessero la stessa identica cosa? Quindi creassero anche loro il loro team di coffee specialist, tre persone che aiutano tre persone ciascuno a diventare dei coffee specialist e a generare i loro 10 clienti e il nostro guadagno andrà via via moltiplicandosi, 618 euro. In quattro passaggi, quindi creando una rete di coffee specialist più basta, abbiamo la possibilità di aumentare i nostri guadagni e arrivare anche a cifre mensili molto importanti. Sicuramente abbiamo parlato prima di 400 euro al mese che non ci cambiano la vita, con 4000 euro al mese diciamo che qualche sogno che abbiamo chiuso e che questa situazione che c'è lì fuori ci ha costretto a fare, qualche sogno iniziamo a riaprirlo, a ritirarlo fuori da quel cassetto. E quindi vi faccio una domanda, una domanda che magari non siete abituati a sentire molto spesso. Qual è il vostro sogno? Magari da bambini eravamo molto più abituati a sognare, perché? Perché un bambino non è influenzato da quelli che sono gli schemi, le regole della società e che soprattutto che la società ci inculca. E quindi qual è il nostro sogno? Quindi quanti di voi magari da bambini sognavate di diventare un calciatore, una modella, un astronauta? Per quale motivo poi abbiamo abbandonato questi sogni? Ci siamo quasi adeguati e quindi magari tra di voi c'è qualcuno che sogna una casa del genere o magari l'auto dei propri sogni o perché no, dato che fa molto caldo, è arrivato il tempo magari di una bella vacanza al mare, una vacanza in posti del genere o magari tra noi stasera c'è qualcuno che è appassionato di oggettistica e quindi sarebbe molto contento di possedere un orologio del genere. Su quest'ultimo mi voglio focalizzare un attimo, è quello più importante tra questi, per quale motivo? Non per il suo valore economico ma per la sua funzione. Perché? Perché la funzione di questo orologio ovviamente è quella di misurare il tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa e democratica che esiste al mondo. Quanti di voi hanno 23 ore o 25? Ne abbiamo tutti 24. E allora cosa fa la differenza in realtà nella nostra qualità di vita? Il tempo che abbiamo a disposizione, il tempo che abbiamo a disposizione per godercela questa vita e quindi stasera abbiamo conosciuto insieme un modo non solo per riaprire quel cassetto dove abbiamo rincluso i nostri sogni e iniziare a spolverarli e a ritirarli fuori ma soprattutto per avere anche il tempo da dedicarle e per condividerli con le persone a cui vogliamo più bene. Bene e adesso invece vediamo quello che è il sogno dell'azienda, la vision dell'azienda ovvero quella di vedere domani 100 milioni di persone che gustano al momento espresso ogni giorno ma qualsiasi sia il sogno dell'azienda, la vision dell'azienda e qualsiasi sia il vostro sogno abbiamo capito una cosa molto importante ovvero che i sogni si realizzano soltanto quando prendiamo la decisione e passiamo all'azione. Quindi siamo giunti alla fine di questo di questo webinar io sono sicuramente molto contento di avervi accompagnato in questa presentazione perché perché se sono da quest'altra parte a fare il webinar potete poi capire quella sera quando fu invitato a conoscere questa opportunità quale fu la mia decisione e personalmente grazie a momento espresso io sono due anni che non sono più costretto ad andare a fare le notti in albergo e per me è un qualcosa di molto importante perché nella mia vita quella fase della mia vita è stata molto pesante perché vi assicuro che un lavoro del genere era per me molto umiliante quindi il fatto per me momento espresso ha rappresentato veramente un'opportunità per poter cambiare la situazione quindi se magari vi trovate anche voi in una situazione che non vi piace che vi sta stretta prendete in considerazione questa opportunità salite a bordo e appunto passate all'azione